È stata individuata da alcuni operai che stavano riaprendo il cantiere in uno stabile di via Giordano, chiuso da diverso tempo. Si tratta del corpo di Sara, l'Elem Hamed, 40 anni, olandese, di origine eritre, scomparsa dalla sua casa di Vigevano la sera del 4 dicembre. Il cadavere è stato ritrovato in un buco dove doveva essere inserito un ascensore. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 15.30 di ieri. La zona è stata subito bloccata per permettere alle forze dell'ordine di recuperare il corpo della quarantenne e compiere tutte le indagini necessarie.